www.feyyaz.tv www.feyyaz.tv Anco a caso, a suo cuore. Mettà famiglia mi fai scannare, i figli. E devo dire quello che è. Lei adesso diventerà una celebrità. Cercheranno di distruggerla. Mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Face nome, Buscetta. Per me non ci sono intoccabili. Perché il test mette su ogni cosa. Perché mi ha levato la pace dalla mia famiglia. Usa i politici? E quali politici? Non aspettavo il ruggito del leone. Ho sentito lo squittio di un topo. Questa vera non è finita appena cominciata. La mafia non è invincibile. È un fenomeno umano. Avuto l'inizio avrà una fine.